Io non so se è corretto che Black Stallion, la nostra adozione a distanza, divida il lettone con noi. In fondo ha una sua culla. È corretto invece. Baccia te nella culla. Vero Black Stallion che vuoi stare nel lettone? Ammazza, ma che t'hanno un bottito? Beh, io non condivido. Si impone. Adesso mi finisce il libro, grazie. Ma che libro stai leggendo, Patas Frankenstraw? Un romanzo sulla crisi di coppia. Vedi, dannate, n'affanculo di Tennessee Williams. Ma molto interessante. Raccontalo a me a Black Stallion. Raccontalo. Raccontalo, raccontalo, raccontalo. Raccontalo, raccontalo, raccontalo. Lo sta per raccontare. Raccontalo, raccontalo, raccontalo. Sai che lo odio io? Raccontalo, raccontalo, raccontalo. Come finirà? Basta, o te sparo. Lo racconto, basta che ti stai città. Ecco. Grazie, Patastrulli. Quando il rapporto funziona. Allora, lei incontra lui nel Mississippi. Lei bella, giovane, intelligente, tonica. Come mamma. Più o meno. E lui? Narana. Addirittura. Insopportabile. Con sta voce che appena apre bocca gli espareresti. Come chi? Come rompi i coglioni. Non è papà lui. Interessante. E come mai, Patastrulli? Lei si namora di lui. Ma che ne so. Sta cratina. È un gran mistero. Ma io dico, ma aspetta, ma guarda, ma c'hai fretta? Ce ne saranno mille di uomini al mondo. È certo, è pieno di uomini al mondo. Niente. Niente. Sta deficiente. Non solo ci si fidanza, ma se lo sposa pure. Oh, è bello. Come è bello. E manda un bello. Bello. No, tragedia. Come papà e mamma. Ma forse lei si è innamorata di lui perché lui è stallone. No. Non è stallone. No, ecco. Insomma, Patatini, come finisce questa storia? Sentiamo. Gliato fine. Appare una fata che gli mette del botulino nella minestra. Lui muore senza una ruga dentro 24 ore. Patatini, ma forse non dovremmo raccontare queste storie terribili davanti al bambino. Ha ragione, ma non è un bambino. Ma tanto, lui è neonato. Ma che neonato? Non capisce. Sarà? Ecco, adesso se ti addormenti, per favore, che mi devo occupare del pupo. Cioè? Andiamo a cambiare il pannolino. No, ecco. Che pannolino. Ma mi devo addormentare? Sì, subito. Ma li posso cantare quando i bambini fanno no? No, 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 no. Quando i bambini fanno no? No, vabbè, tranquillo, è tranquillo. Canta bene, con calma. Che meraviglia, che meraviglia. Che voce. Quando i bambini fanno pii. No, non fanno pii. Che meraviglia, che meraviglia. Quando i bambini fanno cù. Lo fa tutto? Sì. Quando i bambini fanno arrr. No, eh. Quando i bambini fanno arrr. Quando i bambini fanno arrr. Quando i bambini fanno arrr. Basta. Non se ne fa più. Basta. Ebbè. 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 Ho già detto? Ho già detto? Tocchino. Tocchino stare, l'ho messo in fuga. Vabbè, ma si può raggiungere, eh? Ma mi volevo esibire per lui. Ma buttate dalla finestra se te vai esibire. Non cantà. Giusto. Good night, patascrandent. Eh, good night. Rompi, coglione. Eh, ci siamo. Quello non cambia mai.